Un saluto a tutti voi dal canale Astrologia Tradizionale, da Francesco, da Franz, siamo qua per un approfondimento su Plutone in acquario, in realtà già nel canale vi ho presentato degli approfondimenti su Plutone in acquario, il prossimo transito, il prossimo ingresso che avremo infatti di Plutone sarà quello in acquario, è un ingresso definitivo perché come sapete, insomma, negli ultimi mesi Plutone è stato già in acquario, però a causa di un moto retrogrado è ritornato, diciamo, nel Capricorno. Ora questo moto retrogrado termina nel mese di ottobre, mi pare a metà ottobre, quindi torna Plutone in moto diretto e poi avremo l'ingresso di Plutone in acquario prossimamente e vi dirò dopo quando avremo questo ingresso definitivo. Ingresso definitivo che significa che non avremo più Plutone che ritorna in Capricorno, quindi avremo più in là un Plutone di nuovo retrogrado ma non rientrerà più nel segno del Capricorno. Quindi in modo definitivo Plutone entra in acquario e quindi vorrei proporvi l'ultima riflessione su Plutone ragionando anche su questa simbologia alla luce anche della tradizione astrologica, quindi secondo i metodi tradizionali che non contemplano Plutone e capiremo perché, però sicuramente una formazione tradizionale ci può anche dare delle direzioni su come interpretare Plutone per esempio nel segno acquario, valorizzando in particolare l'acquario secondo approcci tradizionali e comprenderemo ora tra non molto come intendo presentarvi Plutone, ma aggiungo anche che anche se uno pratica astrologia tradizionale, molti astrologi della tradizione, purtroppo non in Italia ma più all'estero, ci sono moltissimi astrologi, per esempio vi cito Chris Brennan che nel suo celebre canale YouTube ha affrontato tante volte Plutone, le cicliche di Plutone ma anche di altri pianeti non contemplati nella tradizione come Urano Nettuno, evidenziando comunque un interesse, cioè questi pianeti effettivamente esistono, quindi in qualche modo possono essere contemplati anche nella pratica astrologica ed essere osservati. Personalmente io Plutone non lo uso nei temi di nascita, lo lascio un po' da parte, almeno nelle interpretazioni delle carte di nascita, perché già la dottrina tradizionale ci dà molti metodi per elaborare una carta di natività, quindi Plutone, Urano, Nettuno non sono così necessari nella lettura di un tema di nascita. Tuttavia Plutone risulta interessante per esempio negli studi di astrologia cattolica, cioè di astrologia mondiale, unitamente anche a tecniche tradizionali come l'ingresso del Sole in Ariete, le eclissi di Sole e Luna, la presenza anche di fenomeni cometari, quindi le comete che appaiono, ci possono dare anche informazioni sulla astrologia mondiale, i cicli storici studiati da anche in particolare da Albumasar, quindi cicli e le relazioni Giove-Saturno, ma anche Marte-Saturno e in aggiunta abbiamo anche negli approcci moderni dell'astrologia moderna lo studio anche dei pianeti oltre Saturno, quindi le loro cicliche, Urano, Nettuno, Plutone, in relazione anche ai pianeti come Saturno, Giove e Marte. Quindi insomma Plutone può rientrare come studio proprio anche sul ragionamento delle dinamiche collettive. Io personalmente Plutone lo sto monitorando con attenzione, mi interessa molto questo Plutone in acquario, specialmente il prossimo ingresso sarà per me una verifica di questo Plutone per comprenderne effettivamente il suo significato e se effettivamente ha una forza agente per me potrebbe averla e vedremo poi sicuramente nei prossimi mesi questo Plutone che cosa porterà, perché Plutone in acquario è ovviamente un transito molto lungo, però abbiamo momenti celesti particolari di questo Plutone e il momento epico lo avremo anche nel momento in cui entra nel grado zero dell'acquario e capiremo il perché, perché va ad attivare un grado zodiacale molto importante anche per gli approcci dell'astrologia tradizionale, perché il grado zero attualmente è il grado della media congiunzione precedente, cioè noi abbiamo avuto Giove e Saturno che si sono congiunti in acquario a dicembre 2020, questo grado è un grado molto importante perché rappresenta una media congiunzione, cioè rievoca quell'incontro che abbiamo avuto di Giove e Saturno nel 2020 a dicembre che ha segnato secondo gli approcci dei cicli storici dell'astrologia storica di Albumasar un momento molto importante che vedremo tra non molto. Ma io vorrei partire dalla lettura, dalla citazione anzi, di un autore che è Richard Tarnas nel suo Cosmos and Psiche dove c'è una descrizione di Plutone offerta da questo autore che ci può, diciamo, aprire al discorso di Plutone in questo ultimo approfondimento sul suo ingresso. Poi vedremo, insomma, nei prossimi mesi andremo a monitorare anche i momenti epici di Plutone all'interno delle sue figure, cioè delle figure che formerà con gli altri pianeti. Che cosa scrive questo autore? Beh, descrive Plutone come associato al principio di potere elementare, principio di profondità e di intensità. È visto da questo autore come ciò che spinge, potenzia, amplifica tutto ciò che tocca, a volte fino agli estremi travolgenti e catastrofici. Plutone è collegato, dice questo autore, agli istinti primordiali, alla libido, all'aggressività, alla distruzione e alla rigenerazione, ai processi vulcanici e catartici, all'eliminazione e alla trasformazione, in un moto continuo di evoluzione. Esso è legato ai cicli biologici di nascita, sesso e morte, al costante alternarsi di morte e rinascita, alla sovversione, al crollo e alla decomposizione, ma anche alla fecondazione. Plutone governa scariche violente di energie ripresse, è il fuoco purificatore, ci parla di situazioni di vita in bilico, tra vita e morte, ci parla di lotte di potere e ci parla di tutto ciò che è titanico, massiccio, potente. Esso rappresenta, scrive sempre in Cosmos e in Psiche, rappresenta gli inferi e il sottosuolo in ogni senso, quindi in senso geologico, istintivo, politico, sociale, sessuale, urbano, criminale, mitologico, demoniaco anche, dice questo autore. Simboleggia la realtà oscura, misteriosa, ma anche i tabù e spesso rappresenta anche tutto ciò che è terrificante per la mente umana. Rappresenta anche l'ego e le convenzioni sociali e della civiltà. Plutone è la forza che periodicamente si scatena con potenza distruttiva e trasformativa, spinge, brucia, consuma, trasfigura e resuscita. Vi ho portato una grande sintesi, poi nella descrizione trovate questo testo che è interessante perché non parla solo di Plutone e quindi troverete poi il link di questo testo. Allora, dal punto di vista mitico e religioso, Plutone è associato, diciamo, a tutti i miti di discesa e trasformazione, cioè a tutte quelle divinità legate alla distruzione e alla rigenerazione, alla morte e alla rinascita. Per Plutone, come anche per tutti i pianeti oltre Saturno, il riferimento che si fa è in particolare alla simbologia, al mito in particolare. Lo si fa anche per gli altri corpi, per la Luna, per il Sole, per Venere, però in particolare per i pianeti oltre Saturno c'è una forte inflazione, una forte lettura di questi simboli sul piano molto mitologico che naturale, perché comunque questi tre pianeti che sono oltre Saturno non hanno tutto quello studio che invece c'è dietro agli altri pianeti nella soglia del visibile e quindi gli altri pianeti sono stati congetturati non solo attraverso le simbologie ma anche attraverso le nature che questi pianeti esprimono e quindi che temperamenti, che nature, che umori questi pianeti in qualche modo vanno a toccare, quindi negli altri pianeti visibili c'è anche una forte speculazione della filosofia naturale. Per i pianeti oltre Saturno c'è invece una forte inflazione più simbolica, più mitologica. Plutone è considerato un pianeta generazionale moderno e si distingue proprio da tutti gli altri pianeti perché insomma ha caratteristiche uniche. Attualmente i praticanti dell'astrologia tradizionale non lo considerano come non è considerato Nettuno e Urano per via della loro invisibilità a occhio nudo. Infatti l'occhio umano può percepire soltanto i pianeti fino a Saturno. Tuttavia, aggiungo, ci sono invece molti astrologi e ricercatori anche nell'ambito dell'astrologia ellenistica, e tra questi vi cito il bravissimo Brennan, che includono Plutone nelle loro osservazioni o meglio nei loro studi, nelle loro ricerche, grazie anche al fatto che questi pianeti comunque sono stati osservati anche nelle cicliche storiche ed effettivamente ci sono delle corrispondenze importanti. Poi al di là, anche se non ci fossero delle corrispondenze, si tratta comunque di corpi celesti che esistono. Quindi nella tradizione astrologica non sono elencati questi corpi perché semplicemente non erano noti, ma sfido chiunque a dire che se Tolomeo avesse avuto la conoscenza dell'esistenza di Plutone non avrebbe studiato i suoi moti, ma assolutamente sì, Tolomeo è stato un astronomo, quindi se nei suoi tempi in qualche modo veniva a conoscere, se nei suoi tempi avesse avuto coscienza dell'esistenza di Plutone sul piano proprio fisico, secondo me avrebbe come studiato i suoi moti e i suoi comportamenti, perché comunque è un corpo celeste, è un pianeta. Però questo io lo devo dire per una, quantomeno per comprendere di quello che stiamo parlando, cioè di corpi che sono soggetti, diciamo così, a studi, a ricerche. Quindi sono pianeti ancora oggi soggetti a importanti studi e osservazioni, quindi nessuno ci vieta di affrontare questi corpi. In questo approfondimento propongo una riflessione su Plutone senza pretese di definizioni definitive, evidenziando comunque la necessità di trattare questi pianeti, quindi anche Plutone, con cautela, perché non possiamo ritenere che tutto dipende da Plutone. A volte l'approccio è questo, cioè tutto dipende da Plutone, Urano, Nettuno. Allora, l'astrologia ha diversi modi di approcciarsi alla realtà che è attorno a noi. Diversi metodi, approcci, tutti giusti, tutti, come dire, rispettabili. Tra questi abbiamo anche sicuramente la possibilità di osservare i tre generazionali, tra cui anche Plutone. Infatti, scrivo, non utilizzo attualmente nello studio dei temi di nascita i pianeti oltre Saturno, ma li integro in particolare per lo studio dell'astrologia mondiale, impiegando anche tecniche tradizionali come gli ingressi del Sole in Ariete, le eclissi, le comete, le congiunzioni Giove-Saturno, oltre a metodi più moderni come gli allineamenti nelle cicliche di Saturno-Giove, Nettuno-Urano-Plutone. Allora, riflettendo sul transito di Plutone in acquario, diciamo che il prossimo ingresso che abbiamo è quello definitivo, nel segno acquario, che è un segno d'aria, è un segno maschile, è un segno solido o fisso, che corrisponde al cuore dell'inverno e che è la dimora, questo segno dell'acquario, è la dimora di Saturno, infatti Saturno preferisce molto più l'acquario che il capricorno. I testi tradizionali ci dicono che l'acquario è la gioia di Saturno, cioè tra acquario e capricorno Saturno gioisce, cioè sta meglio nel domicilio in acquario. Va sottolineato come esso, questo segno è in antitesi alla vita, quindi l'acquario è il cuore dell'inverno e il sole in acquario incontra il suo esilio e firmico materno colloca il segno dell'acquario nell'ottava casa del tema mundi, cioè della carta di nascita del mondo, che definisce la casa della morte. Firmico, infatti, descrive il segno acquario come segno morbifero, simbolo della fatica umana. Quindi ciò mi porta intanto a dissentire all'idea dell'acquario come esclusivamente segno di tecnologia. È anche segno di tecnologia, ma di che tipo di tecnologia? Una tecnologia fredda, gelida, cinica, molto razionale. E comprenderemo quindi la tecnologia rappresentata dall'acquario, che cosa può rappresentare. Ma l'acquario è prima di tutto un segno di tradizione, di cristallizzazione, richiama l'inverno e la rigidità. Essendo segno prediletto da Saturno, può simboleggiare proprio le regole, i limiti, la rigidità e quindi anche i processi di razionalità. E la tecnologia anche è un processo di razionalità, ma esistono diversi tipi di tecnologia e quindi la tecnologia rappresentata dall'acquario, almeno secondo me, è una tecnologia non ludica, non una tecnologia a servizio della quotidianità individuale, ma è una tecnologia molto più complessa, una tecnologia che in qualche modo potremmo definire estremamente razionale e che ha una funzione, ha uno scopo. Nello stesso tempo però firmico materno chiama il segno dell'acquario fatica dell'uomo e in numerosi glifi medievali, spesso l'acquario è rappresentato con dei secchi di acqua o degli strumenti che spostano l'acqua o degli strumenti che costruiscono qualcosa. Abbiamo anche la classica rappresentazione che proviene dall'immagine costellativa che è quella di un uomo che porta delle anfore. In queste anfore alcuni dicono che c'è dell'acqua, altri che c'è del vino. Perché? Perché il segno dell'acquario è visto anche come segno di ubriachezza, pensate. Quindi è un segno molto complesso, questo, ripeto, ce lo dice firmico materno. L'acquario è un segno di sfida, no? È un segno di una sfida saturnina. Non rappresenta quindi la modernità nel senso del progresso delle comodità ludiche o delle comodità giornaliere o quotidiane. È un progresso che abilita ha una conoscenza. È il progresso della conoscenza. Nelle tecnologie dell'acquario noi abbiamo una nuova idea del mondo. È un'idea però filtrata dalla razionalità e tutto ciò che è tecnologia acquariana è una tecnologia che ha lo scopo di darci delle rivelazioni, di aprirci a delle comprensioni di cose appunto complesse, occulte, misteriose. Quindi la tecnologia dell'acquario è uno strumento che apre alla conoscenza di cose misteriche o che prima della scoperta di questa tecnologia quella cosa era concepita come una teoria o una ipotesi. La tecnologia dell'acquario ci può far scoprire, ci può far comprendere certe cose, diciamo, della vita e della esistenza. L'acquario può però anche rappresentare un segno di consapevolezza, di conoscenza, perché la conoscenza non è legata solo a Mercurio ma anche molto a Saturno. Per esempio mi viene ora in mente Agrippa associa l'acquario e Saturno alla filosofia secreta evoco Saturno perché la l'acquario è il domicilio preferito di Saturno. Quindi Plutone in acquario è nella casa di Saturno, quindi è nel segno che preferisce Saturno. Quindi in qualche modo entra nei palazzi, nella casa, nei luoghi di Saturno. E sicuramente quindi nell'acquario c'è anche un processo di analisi, di studio. Guarda a casa è un segno fisso, è un segno solido, è un segno freddo che rappresenta nella logica delle stagioni il cuore dell'inverno. Il cuore dell'inverno è molto freddo, è anche freddo nel senso perché? Perché l'intelligenza è fredda. L'intelligenza può essere anche calda. Per esempio ora mi viene in mente che molti autori ci dicono che un'intelligenza calda e umida è più legata ad un'intelligenza pratica, manuale, è una intelligenza molto appunto pratica rispetto alle forme di intelligenza fredda e secca che sono in forme di intelligenza più erodita, più di indagine, più teorica, più di studio. In un certo senso l'artigiano ha un'intelligenza calda e umida, mentre lo studioso che sta sui libri è un'intelligenza più fredda e secca, non che una intelligenza sia meglio dell'altra. Sono forme di intelligenza diverse. Quindi qui abbiamo intanto queste considerazioni da tenere in considerazione appunto, dove c'è questo segno che viene attivato o toccato da Plutone, valorizzato da Plutone, in un momento in cui Saturno anche è in acquario, è in pesci, vero, ma sta solcando l'immagine dell'acquario stellato. Quindi si trova anche Saturno in un'area costellativa molto importante per il pianeta Saturno. E quindi l'acquario rappresenta nel bene sicuramente anche l'intelligenza e il rigore della razio, le scoperte razionali scientifiche, ma come ci ricorda anche Firmico Materno, l'acquario è anche un'esperienza di fatica, perché nel tema Mundi va ad occupare l'ottava casa della generazione del mondo e quindi è il luogo dove dopo segue l'occaso il tramonto del mondo, dove troviamo il Capricorno e quindi abbiamo comunque un segno che rappresenta cose morbifere, dice Firmico Materno. Quindi è anche fatica, è anche sacrificio. Tornando alla questione della tecnologia, l'acquario potrebbe rappresentarla, ma non come simbolo di modernità, piuttosto è una tecnologia, quella acquariana, volta a illuminare ciò che è ancora sconosciuto o ipotetico. Quindi una tecnologia legata alla comprensione di ciò che è occulto e nascosto. La tecnologia acquariana non è quella quotidiana e popolare, come un iPhone che potremmo più associarlo ad una scoperta o ad una tecnologia mercuriale, ma è una tecnologia quella che porta l'acquario di elite, destinata a esplorare ciò che riteniamo invalicabile o misterioso. È una tecnologia complessa, fredda, volta a risolvere enigmi che oggi sono ancora oscuri o che rispondono a domande irrisolte. Plutone è legato al regno dell'invisibilità e dell'oscurità più profonde, spesso associato a un simbolo potente di trasformazione che richiede quindi di sprofondare nelle ombre individuali e collettive per poi rigenerarsi in una nuova consapevolezza. Quindi le implicazioni di Plutone in acquario le comprenderemo meglio, diciamo, con il tempo e saranno probabilmente anche le generazioni future a percepirne meglio gli effetti. Personalmente sono molto incuriosito da questo transito, soprattutto perché il prossimo ingresso definitivo di Plutone è un ingresso finale, quindi Plutone tocca per l'ultima volta il grado zero dell'acquario prossimamente. Questo è un grado di grande rilevanza perché è un grado che coincide con la precedente media congiunzione Giove-Saturno in acquario che abbiamo avuto a dicembre 2020. Questo grado che viene indicato dalla media congiunzione precedente, secondo la tradizione astrologica, segna un ciclo storico, cioè un rinnovamento sociale e collettivo non privo di difficoltà. La congiunzione dicembre 2020 di Giove-Saturno che è avvenuta nel grado zero dell'acquario rappresenta in un certo senso un punto di svolta, di discontinuità, di cambiamento di un paradigma legato ai moti del mondo che è uno spartiacque rispetto al mondo passato, al vecchio mondo, verso un mondo nuovo, verso il quale dobbiamo andare o stiamo andando. Allora che cos'è la media congiunzione intanto di Giove-Saturno? Sono dei cicli di Giove-Saturno, per esempio studiati molto da Al-Bumasar, e la media congiunzione è mutazionale, cioè cambia le triplicità delle congiunzioni, cioè per intenderci dal 1800 al 2020 abbiamo avuto sempre o quasi l'incontro di Giove-Saturno in segni di terra, quindi Giove-Saturno si sono sempre congiunti dal 1800 al 2020 in segni di terra. Quindi abbiamo avuto, secondo i cicli storici di Giove-Saturno, un mondo legato al segno di terra e alla sua triplicità, quindi un mondo caratterizzato da certe cose. Non è a caso, dal 1800 al 2020 possiamo parlare di rivoluzione industriale, di economia, materialità, di una forte adesione ai valori terra. Ora nel 2020 Giove-Saturno hanno fatto questa congiunzione nel grado zero dell'acquario, proprio il grado zero, e quindi da questo istante le successive congiunzioni avverranno sempre in segni di aria. Quindi cambia la triplicità del mondo. Da un mondo, diciamo, retto dall'elemento terra, passiamo ad un mondo retto da un paradigma aria. Ora, le congiunzioni Giove-Saturno che cambiano le triplicità sono state sempre considerate molto importanti dalla tradizione astrologica. E vi dico poi perché parlo di questa cosa collegandola a Plutone. Ora lo comprenderete. Intanto vi segnalo un autore che è Levi Ben Gerson, autore dell'antichità, che ha fatto una riflessione sulla congiunzione Giove-Saturno in acquario che cambia triplicità. Cioè noi nel mondo, nel passato, abbiamo già avuto l'evento che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto dal 2020, di Giove-Saturno in acquario, è un qualche cosa che già in antichità è stato sperimentato in altri tempi sotto un altro cielo, un altro mondo, un altro tipo di nesso storico, non c'è dubbio, ma è una congiunzione che già c'è stata. Quindi abbiamo già avuto una congiunzione Giove-Saturno in acquario che ha cambiato la triplicità, congiunzione mutazionale. E Levi Ben Gerson ne ha parlato. Allora, ne ha parlato nella sua Nila Mot Assem, dove ha parlato di questa congiunzione che noi abbiamo avuto nel 2020, nello stesso segno. Ovviamente Levi Ben Gerson parla di altri, insomma, di altri tempi storici. Io ho trovato questo testo di Levi Ben Gerson presso gli archivi dell'Università di Cambridge e parla della congiunzione Giove-Saturno del 1345 nel segno acquario, dove Levi Ben Gerson ha indicato alcune cose che poi si sono anche avverate, non ha avuto il tempo per vederle perché è morto poco dopo, mi pare, nel 1355. Ora non mi ricordo esattamente l'anno di morte. Comunque non ha potuto vivere tanto da poter comprendere che le sue previsioni erano giuste, erano azzeccate. Allora, che cosa ha scritto Levi Ben Gerson sulla congiunzione Giove-Saturno in acquario? Vi riporto la traduzione che io ho fatto da questo testo che è stato tradotto in inglese, io me lo sono ritradotto in italiano. Ora dico che è molto, che è noto per esperienza, che una congiunzione di Saturno con Giove significa eventi grandi e generali. Quando si svolge, dice Levi Ben Gerson, in segni di aria, il suo impatto è di grande forza. Quando si svolge in un segno fisso, il suo impatto durerà per molto tempo. È il caso della congiunzione che avverrà a marzo 1345. E quindi è la stessa che è avvenuta nei nostri cieli nel 2020. Giove-Saturno si incontrano in acquario e cambiano la triplicità. Secondo la configurazione Giove-Saturno, essa indica la distruzione di una nazione e di un regno da parte di una nazione di religione diversa. Ciò comincerà ad accadere nel decimo anno, lui dà anche dei tempi, dopo la suddetta congiunzione. Secondo questa configurazione, perché essa avveniva nella terza casa, quindi ha dato un tempo anche in base alla posizione e ha dato un certo tipo di previsione in base anche al luogo celeste dove l'autore osservò questa congiunzione. Secondo quanto è manifesto nella configurazione, il male avverrà dai paesi posti al nord, quindi ha dato anche delle posizioni rispetto a quali popoli avrebbero subito una maggiore influenza da questa congiunzione. Poi dice, poiché Saturno e poi Marte dominano questa congiunzione, questo indica un male straordinario con molte guerre e segni miracolosi. Poiché la congiunzione forte Marte-S dominerà anche l'ascendente e indica lo spargimento di molto sangue e una crescente inimicizia, girosia odio, conflitti, carestie, malattie varie, siccità e carestia. A causa di Saturno indica anche malattia, inimicizia insensata, contesa, distruzione dei luoghi, crolla, affondamento di navi in alcuni mari. La congiunzione con Marte indica calore ardente ed ad alcune latitudini molte esalazioni secche, comete per la maggior parte del mondo, abitato, guerre, calamità, morte di spada, uccisioni, distruzioni. Siamo in un periodo in cui, subito dopo, questa previsione nel mondo, insomma, scoppia anche la peste, quindi è un periodo, quello di Levi Ben-Jerson, subito dopo, molto difficile, molto complicato. Ma le indicazioni che dà hanno molto a che fare anche con il nostro mondo attuale, con quello che abbiamo sperimentato ultimamente. Quando abbiamo avuto la congiunzione Giove-Saturno nel grado zero, eravamo in piena fase di una pandemia, di quest'area, aria malsana intorno a noi. Guarda caso, un virus che si trasmetteva per via come vettore, c'era l'aria appunto, quindi un virus che si trasmetteva attraverso le vie respiratorie. Ora, a prescindere poi dalle opinioni su come è stata gestita questa roba, sicuramente ci sono molte perplessità e critiche sul versante politico più che sull'evento in sé. Però l'evento c'è stato comunque di un virus nuovo, di una pandemia, un qualche cosa che ha riguardato tutto il mondo, non una sola area del mondo. Subito dopo la congiunzione Giove-Saturno in acquare abbiamo avuto un'escalation legate alle tensioni diplomatiche mondiali, dove poi è esploso il conflitto Ucraina-Russia e attualmente un conflitto che sta riguardando Israele e anche altre aree, la striscia di Gaza, abbiamo l'Iran, insomma in queste ultime ore stanno avvenendo delle cose molto preoccupanti, quindi speriamo bene. Però effettivamente Israele sta anche avendo un ruolo importante in questo momento storico e guarda caso Saturno transita in acquario, nell'acquario celeste, nella costellazione dell'acquario. Bezza ci ricorda nei suoi studi che Saturno è associato alla religione ebraica e che la religione ebraica ha molto a che fare anche con l'acquario, come anche tutte o gran parte. Le religioni monoteiste sono legate anche al segno acquario e quindi abbiamo Saturno che ha a che fare anche molto con Israele in questo periodo. Abbiamo anche l'area della Russia e dell'Ucraina che è sotto la triplicità di aria, secondo le ripartizioni del mondo, secondo suddivisioni delle triplicità. Insomma sto notando, almeno io ma anche tanti altri astrologi e colleghi stanno notando effettivamente delle cose interessanti, delle coincidenze importanti che stanno avvenendo in questo momento. E perché quindi parlo di Plutone? Perché Plutone va a toccare il grado della media congiunzione precedente, quindi dell'incontro Giove-Saturno in acquario. Quello che io mi sono detto è che se effettivamente Plutone ha un'influenza sulle cose del collettivo, il suo ultimo ingresso in acquario al grado zero deve per forza portarci o aprirci qualcosa di inedito. Quindi al prossimo ingresso di Plutone in acquario, grado zero, dobbiamo avere qualcosa che emerge. Ora non voglio dire nel giorno esatto, ma mesi prima, mesi dopo, quindi ora in questi mesi, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, quindi parliamo di una tempistica dei prossimi sei mesi, dobbiamo avere qualcosa già di imminente che viene significato dall'ingresso di Plutone in acquario, che reattiva il grado zero. Quindi probabilmente se effettivamente Plutone ha delle influenze, io mi devo aspettare qualcosa. Quindi non faccio una previsione per dogma o per fede, perché credo che Plutone porti qualcosa. Intanto faccio un ragionamento teorico, ma in questo ragionamento io sto studiando la ciclica di Plutone e devo attendere i prossimi mesi per capire se effettivamente Plutone porterà degli effetti in un momento clou, quindi non è Plutone in acquario, è un transito lunghissimo, sicuramente avremo durante il transito di Plutone in acquario delle catastrofi o momenti di emergenza, perché ciclicamente questi eventi ci sono, non c'è niente di nuovo sotto la luce del Sole. Ciclicamente abbiamo avuto conflitti, ciclicamente abbiamo avuto eruzioni vulcaniche, quindi non è che Plutone porta, è che ciclicamente abbiamo degli eventi naturali e legati alla collettività. La differenza lo fa il momento in cui certi eventi accadono, quindi quello che io devo verificare è l'ingresso di Plutone in acquario, che avremo prossimamente. Vediamolo appunto brevemente dall'ingresso che abbiamo prossimamente, l'ingresso intanto vi segnalo che lo abbiamo, eccolo qua, ovviamente qua non si vede Plutone, devo attivare i 10 pianeti, datemi un attimo tempo. Il prossimo ingresso lo abbiamo il 19 novembre 2024, quindi abbiamo il grado 0 dell'acquario. È un ingresso particolare, io per esempio nel mio studio, nella mia ricerca, studio molto per i pianeti generazionali, quali sono i pianeti che si applicano e si separano dal pianeta generazionale nel momento in cui entra in un nuovo segno. Questo è l'ultimo ingresso, quindi è molto importante questo ingresso rispetto a quelli precedenti. Questo è quello che decreta, secondo i miei approcci, quello che ci dà un significato profondo sul prossimo transito di Plutone in acquario, quello che questo Plutone porterà. Intanto, quindi, l'ingresso avviene il 19 novembre 2024, ingresso definitivo, dopodiché Plutone non sarà più in Capricorno, andrà spedito in questo segno, ma la cosa particolare che abbiamo è questa che ora dimostro. Il fatto che l'ingresso, e qui siamo ora su Planet Dance, allora vediamo se riesco ad ingrandire per farvelo vedere meglio. Dove sta? Eccolo. Oh, perché non si evidenzia il palle? Ecco qua. Allora, sto cercando, questo Planet Dance, cioè dovrebbero un attimino implementare delle funzioni più, ecco, ce l'ho fatta, perfetto. Qui vediamo il movimento dei pianeti, in particolare io mi soffermo su Plutone, dove vedete il 12 ottobre Plutone torna diretto a 29 gradi, 38 del Capricorno. Abbiamo poi un aspetto, quindi nel momento in cui torna diretto, gli ultimi aspetti che Plutone forma, prima di entrare in acquario, vedete il 19 novembre, l'ultimo aspetto che forma è con Marte. Abbiamo un aspetto di opposizione. Ultimi gradi del Capricorno per Plutone, ultimo grado del Cancro per Marte, quindi ovviamente l'ultimo aspetto che Plutone forma è con Marte, con una opposizione. Poi Marte entra in leone, Plutone entra in acquario, Marte subito dopo entra in moto retrogrado e il primo aspetto che si realizza a Plutone nel segno acquario è con Marte di nuovo in opposizione. Quindi la dinamica particolare dell'ingresso di questo Plutone in acquario è che nel momento in cui sta proprio nell'ultimo minuto del Capricorno si oppone a Marte e nel momento in cui entra in acquario realizza come primo aspetto un aspetto a Marte. In tutti e due casi un aspetto di opposizione, dove Marte comincia anche un moto retrogrado. Marte sarà particolare per i prossimi tempi, ne parleremo. Ci sarà un anello di sosta dove Marte fa questo movimento dal cancro al leone, dal leone al cancro. Un Marte pesante, un Marte quando in cancro non è tanto bello, tanto lieto. Ma quello che ora su cui mi vorrei soffermare è sulla dinamica di Plutone nel momento in cui passa in acquario. L'ultimo aspetto che fa prima di entrare in acquario, nell'ultimo minuto del Capricorno, è con Marte in opposizione. Il primo aspetto che realizzerà è con Marte in opposizione. Quindi c'è questo ruolo centrale di Marte. Un ruolo importante perché Marte è un pianeta attivatore dei pianeti generazionali. Cioè, secondo la tecnica moderna, un pianeta generazionale, Urano, Nettuno, Plutone, viene attivato dai pianeti più veloci, dai pianeti che sono sotto di loro nella soglia del visibile. Quindi l'ingresso di questo Plutone in acquario e questo ruolo di Marte su questo ingresso di Plutone la dice lunga rispetto a quello che potremmo pronosticare, ipotizzare meglio, sul significato di Plutone in acquario. Ibn Ezra anche parla della congiunzione Giove-Saturno in acquario e ci dice che è una congiunzione che parla delle derive delle navi, le navi che vengono affondate, problemi nel commercio, possibili epidemie, conflitti tra i popoli. Nella congiunzione Giove-Saturno vi ricordo che Marte non era congiunto a Saturno, ma faceva aspetti con Giove-Saturno congiunti. Quindi c'era anche un ruolo di Marte in quella congiunzione. E guarda caso, nel momento in cui si è realizzata, alla fine si sono cronicizzate, non dal nulla, perché è ovvio, le cose non è che piovono dal nulla, ci sono dei prodromi e che poi arriviamo però ad una concretizzazione, ad una culminazione. Questa congiunzione Giove-Saturno ha segnato momenti di importante cambiamento sullo scenario diplomatico storico delle nazioni intorno a noi, con la nascita di conflitti che sicuramente erano già sotto traccia, erano già all'interno di una traccia, già c'erano sicuramente delle note conflittualità tra certi popoli. Qui si sono acutizzate e quindi stiamo in un momento dove questo Plutone può significare, in accordo anche con la media congiunzione 2020-dicembre, il ridisegnare, cioè la rielaborazione, diciamo così, delle linee di confine, terre che vengono usurpate, conquistate. Nelle guerre abbiamo anche dei perdenti e dei vincitori, ma possiamo avere anche momenti di criticità. Io non credo che siamo alla fine delle tensioni. C'è anche una cometa che forse apparirà per metà ottobre, un'altra ne dovrebbe apparire addirittura, le ipotesi sono con una magnitudine di meno nove, mi sembra una cosa esagerata, è ancora presto per dirlo a fine ottobre. Insomma, abbiamo anche dei momenti celesti particolari. Le comete significano cose, diciamo, guerre, ma anche tante altre cose. Perché? Perché rompono un ordine del cielo, quindi la motivazione logica. Ho letto qualcuno che ha ridicolizzato l'idea che le comete portino guerre e si dicono chissà perché poi. Beh, c'è una logica dietro. Se non la conoscete, evitate semmai critiche rispetto a certe definizioni e andiamoci ad informare. Abbiamo tantissimi testi di approfondimento oggi, quindi possiamo veramente conoscere le fonti tradizionali e conoscere le cose. Le comete erano definite in un certo modo così nefasto, proprio perché andavano a spezzare un ordine cosmico, un ordine celeste. Tutto ciò che rompe questo equilibrio celeste era definito come un qualche cosa di nefasto. Anche le eclissi rompono un ordine celeste e l'ordine che viene rotto dall'eclissi è quello della luce, che improvvisamente viene nemmeno per qualche tempo, per qualche ora, ma è una rottura di un equilibrio. Così la cometa rappresenta un qualche cosa dove il cielo ci dice possono apparire fenomeni improvvisi di destabilizzazione, di crisi, di tensione. Poi per carità la cometa, molti autori dicono che può coincidere anche con la fine di un conflitto, ma faccio notare che la fine di un conflitto è raro che finisca a talalluccevino, finisce con un perdente. Quindi il conflitto quando finisce è perché arriviamo al momento clou, a quello più violento, che andrà a decretare un vincitore e un perdente, a meno che, e questo uno lo spera sempre, possa intervenire la diplomazia in qualche modo per portare ad accordi di pace. Perché no? Speriamolo. In questo momento quello che io percepisco dal movimento dei cieli nella teoria interpretativa, perché quello che vi offro è un ragionamento teorico, è che da questo Plutone in acqua in acquario, mi aspetto qualcosa di epico. Nel momento in cui entra in acquario, dobbiamo attendere un po', perché non è tutto che ciò, cioè non è che le cose avvengono tutte nel momento esatto, magari sarebbe tutto semplice. Plutone entra in acquario il 1911, però abbiamo questi aspetti di Marte a Plutone il 3 novembre, poi il successivo il 3 gennaio. Quindi c'è questo ingresso di Plutone in acquario, Plutone esce dal Capricorno prima di uscire a un'opposizione a Marte, entra in acquario, poi Marte fa moto retrogrado, nuova opposizione Marte-Plutone, c'è questo ping pong, Marte-Plutone, Marte-Plutone, tra novembre e gennaio. Quindi mi aspetterei sicuramente in questi mesi, fino a gennaio, un qualche cosa che Plutone porta, perché viene attivato anche il grado zero, quindi dovrà coincidere con qualche cosa. Se non coinciderà con niente, ben venga e sicuramente farò anche delle mie valutazioni personali sul peso di Saturno per le cose dell'astrologia mondiale. Perché oggettivamente io non sto parlando di un momento qualsiasi, sto parlando di un momento in cui Plutone attiva delle cose importanti. È un Plutone che mi attiva una media congiunzione Giove-Saturno mutazionale avvenuta a dicembre 2020, qualcosa me lo aspetto, perché nella tradizione astrologica c'è questa traccia. Proprio negli ingressi del Sole in Ariete viene detto da molti autori di mettere dentro la carta dell'ingresso del Sole in Ariete, che rappresenta le dinamiche del collettivo per un anno, di mettere la congiunzione media precedente di Giove-Saturno. Gli autori dicono se questo grado della congiunzione media sarà toccato per congiunzione o per un altro aspetto da un qualche pianeta presente nell'ingresso del Sole in Ariete, quella media congiunzione e il suo significato saranno attivati. E quindi mi aspetto un'attivazione di questo grado zero che rievoca la congiunzione Giove-Saturno 2020 di dicembre. E vediamo che cosa porta. sicuramente stiamo andando verso, teoricamente, a un momento teso. Quindi quello che mi aspetterei è qualche cosa di teso, di problematico. Un qualche cosa che precipita, che si fa grave per tutti noi. E leggendo il nesso storico legato all'attualità, le notizie anche delle ultime ore, insomma, gli scenari che stanno andando avanti non sono così tranquilli. Siamo in un mondo che è in pieno fermento e c'è un brulicare di guerra, violenza, di morte. Quindi vedremo questo Plutone che cosa porterà. Attraverso, ovviamente, degli aggiornamenti. Quindi, in qualche modo, l'ingresso di Plutone ormai è chiaro. Quello che dobbiamo fare nei prossimi approfondimenti su Plutone è monitorare certe figure che avremo prossimamente. Non abbiamo solo questa figura. Ora, questa è la prima figura importante. Plutone poi farà delle figure importantissime nel 2025, anche con altri pianeti estremamente importanti e che non ha senso affrontare ora. Intanto voglio comprendere questa prima figura, questa prima dinamica di Plutone che cosa ci porterà. Quindi, in particolare, il passaggio in acquario, il fatto che quando è nell'ultimo minuto del Capricorno si oppone a Marte, in modo esatto, è proprio un aspetto partile, entra in acquario, Marte va al retro, rifà un'opposizione a Plutone. Partile. Quindi voglio capire, prossimi mesi, cosa Plutone porterà. Perché questa figura, interpretandola, dovrebbe darci una interpretazione un po', diciamo, tosta, rispetto alle dinamiche, in questo caso non tecnologiche, perché secondo me in questo momento Plutone non ci parla degli aspetti tecnologici dell'acquario, ma ci parlerà prossimamente degli aspetti morbiferi indicati da firmico materno che rievoca l'acquario nell'ottava casa della generazione del mondo. Quindi vedremo, insomma, prossimamente altri approfondimenti. Per ora vi ringrazio per l'attenzione e a presto. Grazie.